Se si desidera reimpostare la password di un utente in i Passant Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Operatore Software. A questo punto, utilizzare le opzioni a discesa sul lato sinistro per trovare il gruppo di operatori, e selezionare l'operatore di cui si desidera reimpostare la password. A questo punto, è sufficiente fare clic su Password e sull'opzione Reimposta Password, prima di fare clic su OK, per terminare l'invio della nuova password all'utente. Grazie a tutti.